Ciao amici e bentornati a questo spazio dedicato al calcio australiano, lo spin-off di Why Not che ho creato qualche mese fa per informarvi su quella che è la realtà calcistica appunto qui in Australia. Nel video di oggi vi farò conoscere la storia di Michele Maya... sbaglio sempre il cognome... Maya Vacchi, che qui a Sydney lavora come allenatore di calcio. La sua storia di allenatore qui a Sydney è molto bella, è originale diciamo, soprattutto il modo in cui lui ha iniziato la sua carriera di allenatore qui in Australia. Tante volte noi pensiamo che il fatto di trovare lavoro sia soltanto conseguenza di un bel curriculum, di una buona relazione con qualcuno che lavora già all'interno del posto in cui vorremmo andare o di un risultato raggiunto. Diciamo che l'80% dei casi, il 90% dei casi il lavoro lo si trova in conseguenza di questi fattori. Nel suo caso invece lui ha iniziato in una maniera un attimino totalmente diversa, lui ha tentato. Quindi semplicemente proponendoti, ho alzato la cornetta come spettacolo. Mi viene in mente un video che ho visto tempo fa di Velasco, uno dei più grandi allenatori di pallavolo, ma soprattutto uno dei più grandi formatori in tema di leadership, in tema di gestione del gruppo, gestione delle squadre. Lui raccontava quest'aneddoto in cui raccontava di un suo amore giovanile, lui era molto timido, non voleva andare da questa ragazza a chiederle di uscire, poi alla fine ha fatto un ragionamento e ha detto Ma io il no ce l'ho già, io ci provo. Perché se non provi a fare una chiamata, se non provi a fare qualcosa, eh già no. Al massimo ti ridicono ancora no, come dire. Però alcune volte questo no può trasformarsi in un sì e allora lì cambia tutto. Prima di lasciarvi la sua testimonianza, volevo dirvi anche che tutti questi video li potete trovare in versione podcast e che da poco ho lanciato appunto il sito di Why Not, dove al momento potete trovare dentro tutte le interviste fatte agli italiani qui in Australia. Ma state collegati perché molto presto ci sarà un'intera sezione soltanto dedicata appunto al calcio qui in Australia. Introduzione finita, annunci fatti, ora è tempo della storia di Michele, ma prima sigla. Anzi no, questa volta la faccio lanciare a lui. Ciao! La sigla iniziale è della band per cui suona. È della band per cui suona, come dire. Per cui, come si chiama la canzone? A Clock on the Wall, è la prima canzone del nuovo album, Thirteen. Ok, quindi se vuoi lanciare tu lo speciale sul calcio australiano. Ok, è figa, ma così senza neanche non mi va, però... La sono inventata adesso. Signori e signori, ladies and gentlemen, Clock on the Wall by Simon Chainsaw, Calcio in Australia. Dove stai allenando adesso? Sto allenando alla Sydney University. Che già così... Suona bene. Suona bene. Suona benissimo. Sto allenando oltre in un'academy e in un paio di scuole private. Quindi, diciamo, stai facendo tante esperienze nel calcio. Sì, praticamente è un lavoro quasi tempo pieno e mi ritengo abbastanza fortunato. Eh sì, quindi nella Sydney University cosa fai? Alleni, c'è una tua squadra? Sì, faccio gli under 10. Ok. Che mi prende tre giorni a settimana. Ok. E nella Norbridge Academy allena un under 16. Ok. E mi prende tre anche lì. E poi nelle scuole lavoro a ore. E prende... Dipende. Qualche settimana può prendere più ore di altre, ma c'è un minimo di 7-8 ore a settimana per scuola. 7-8 ore a settimana per scuola. Quindi in sostanza sei un po' una pallina da ping pong. Sono il joker. Cioè ti trovi un po' a rimbalzare da destra a sinistra, insomma. Sì, sì. Da quanti anni è che fai l'allenatore, insomma, qui in Australia? Un paio d'anni. Un paio d'anni. Sì. Come hai cominciato a farlo? L'ho cominciato perché dovevo... Mi sono trovato a decidere se restare o partire. E la mia compagna ha un figlio che giocava a pallone. E nel parlare mi ha detto perché non ti vai di restare, magari provi quella carriera lì. Dovevo fare lo student. Quindi ho detto perché non farlo sullo sport. Poi, come diciamo noi a Zarlesco, tiramola mi seda. Cos'è? Ad un certo punto si è prospettata questa possibilità di allenare in questa scuola. Era qualcosa come quattro ore a settimana. Però la scuola si è rivelata, diciamo, ho fatto bingo. E da lì ho detto questa può essere la mia soluzione per qualche anno. Per qualche anno poi non si sa mai. Poi si vedrà. Ma senti, com'è più o meno il livello delle squadre che stai allenando? Cioè a livello calcistico di qualità? Va dallo meno 10, dallo zero assoluto, a un buon livello. A un buon livello. Quale di queste è di buon livello? Sì, The Union è un buon livello perché chi gioca lì arriva attraverso selezione e spendono una bella cifra per essere allenati lì e per giocare lì una stagione. E' semiprofessionistica la società, quindi il livello è abbastanza buono. Quindi strutture immagino anche bellissime. Strutture belle, strutture belle. L'organizzazione è molto più preparata per il calcio femminile perché qua in Australia il calcio femminile è molto più sentito, è molto più avanti rispetto a quello maschile. Ok. Perché sono forti. Sono forti, sì. E buttano dentro molto più soldi. Investono tanto. Però ecco questo, Norbridge è buona, è un'academy. Sydney University a livello di qualità, struttura organizzativa, organizzazione, alto livello? Sì, medio alto. Come sei riuscito ad entrare alla Sydney University? Ho chiamato e gli ho dato il mio curriculum, ho avuto un colloquio, ho vinto il colloquio, sono entrato il primo anno come assistente, poi ho cominciato a fare i portieri e l'anno mandato subito una squadra. Quindi semplicemente proponendoti? Sì, ho alzato la cornetta. Spettacolo, un po' come un di a casa ti aspetta. Bravo. In Italia non funzionava mai quando dovevo vendere, qua ha funzionato. Invece ha funzionato. Sì. Quindi tu praticamente hai contattato, hai fatto un colloquio, sei entrato assistente, adesso c'hai tu una tua squadra. Sì, mi hanno fatto fare un corso, che è come la... tu puoi aiutarmi in questo... la C-License, non so cosa... Ah, l'UFC. L'UFC, l'ho superato e mi hanno preso. Quindi ti hanno... allora ti hanno preso, poi ti hanno aiutato a fare questo corso? Sì, mi hanno detto se vuoi lavorare qua va bene, inizi come assistente, intanto fai il corso, se il corso lo passi fai l'allenatore, se no vai avanti a fare quello che stai facendo. Ho vinto, ho vinto, ho fatto la... ho fatto il corso, l'ho superato abbastanza bene. Quanto è durato il corso? L'ho fatto in tre mesi. Ah, tre mesi comunque? Ogni giorno? No, erano tre sere, tre sere a settimana. Il corso è di un buon livello, cioè nel senso ti è servito? Ah, guarda, il corso di un buon livello, parlano... intanto impari il calcio in inglese. Che quello è tanta roba. È tanta roba e ti aiuta tantissimo. E per quanto riguarda il livello, non lo so, quello che si è dichiarato mio professore, lì, ha detto che lui allenava Team Kyle. Ah, ok, che è una leggenda del calcio australiano, tra l'altro contemporanea, perché ha smesso da poco di giocare. Ha giocato anche in Inghilterra, se non sbaglio. Sì, all'Everton, se non sbaglio. Quindi il livello è buono, è tutto professionale. Per me, poi, che ho sempre al massimo fatto i regionali e qualche provino, tipo Atalanta, Piacenza, niente di più. Era già un bel salto, però, insomma, tengo all'Inter. Il calcio è che parto già bene. Qual è la cosa più strana che ti è accaduto in due anni di esperienza del calcio australiano? Mi sa che quando devi stoppare, perché devo pensare. Cos'è che mi è capitato di strano? Non so, proprio quella cosa che hai detto, ma cosa state facendo? Dove sono capitato? Ti dico la mia, ad esempio, a me è una cosa che mi ha stordito lì, le prime partite, era vedere questi ragazzini abbuffarsi letteralmente di arance tra fine primo tempo e secondo tempo. Ecco cosa mi è capitato, in una scuola, dieci minuti prima della partita, una scuola di ragazze, senior, representative, quindi il top della scuola, si è presentata una ragazza che era fuori corso con tipo dieci o quindici cheeseburger dal McDonald's, ha fatto il delivery dal McDonald's, fargli mangiare prima della partita. Ho cominciato a cioccare in dialetto lodigiano, così nessuno poteva capirmi, e poi ho dovuto parlare col prezzi, perché non c'è... Ma l'ha mangiata alla fine. L'ha mangiata, non si poteva dirgli, se non ho anche abbastanza risentito. A me quello che proprio mi dà fastidio è che non c'è tempo di recupero. Uno, vero, vero, vero. Non c'è tempo di recupero, non c'è, sì, bravo. Infatti quando adesso, cosa sto facendo, insomma, da buon italiano, quando vinco, cioè gli ultimi cinque minuti sono solo cambi. Calma. Nella penultima partita l'arbitro è venuto da me e mi ha detto coach, l'ultimo cambio che puoi fare è questo. Non l'ho neanche detto perché, perché sapevo già il motivo, insomma. Però alla fine se non fai recupero, uno ci gioca, come dire, no? Sì, vero. Senti, hai trovato qualche difficoltà nell'allenare i ragazzi australiani? Sì, con l'inglese. Con l'inglese? Sì. Però, sono stato fortunato perché ho sempre trovato qualche italo-australiano, italo-australiana, che mi ha sempre dato una mano. Magari, quando non trovavo il termine, chiedevo loro l'italiano e saltavano fuori con il termine in inglese. Grazie.